Il rientro dalle Olimpiadi di Parigi è stato il momento per fare i conti sugli atleti abruzzesi partecipanti alle gare d'oltrealpe e con la buona occasione per fare promozione territoriale, oltre che banto della preparazione atletica, dunque facendo riferimento anche al ruolo dei tecnici, oltre a quello degli atleti, per quanto riguarda il supporto delle discipline sportive emergenti e non. Sul tema abbiamo cercato un confronto sulle possibilità da attivare per garantire maggiore spazio nelle varie discipline e negli scenari mondiali. Nelle ultime Olimpiadi l'Abruzzo è risultato la regione con il numero più bassi di atleti partecipanti. Questo dato ci ha un po' allarmato. Il ruolo dei tecnici e degli atleti è determinante per uno svolgimento e per la preparazione per un sistema anche formativo ed educativo. Affinché ci sia un'adeguata formazione dei tecnici e dei presidenti per una valorizzazione massima sul nostro territorio, perché questa cosa poi permetterà di avere i futuri atleti nelle varie discipline sportive. Focus importante sulle barriere architettoniche per quanto riguarda lo svolgimento delle discipline paralimpiche da parte degli atleti sui territori, continuando sempre a parlare di Abruzzo affinché il discorso inclusività non rimanga una parola dal significato tanto ampio ma a volte anche limitante. Giusto un mese fa la dichiarazione del ministro Abodi per quanto riguarda i finanziamenti comuni che a volte non riescono ad intercettare fondi per la riqualificazione di strutture, in particolare su zone svantaggiate o interne. Noi abbiamo nel corso degli anni sviluppato un'attività paralimpica importante. A Pescara abbiamo oltre 24-25 impianti sportivi che determinano un coinvolgimento da parte delle utenze di almeno un tesserato in ogni famiglia. Vanno ricercati fondi, quindi ci vuole una capacità strategica da parte delle federazioni, dei presidenti delle federazioni ma anche delle amministrazioni affinché ci sia una raccolta dei finanziamenti e dei fondi per l'abbattimento delle barriere architettoniche proprio per permettere un maggior coinvolgimento delle associazioni. Un buon dirigente, una buona amministrazione deve avere questa capacità, una visione, una progettazione. L'Abruzzo ha una grandissima capacità di impianto, un patrimonio importante che comunque va riqualificato, va riorganizzato. Discipline sportive di nuova generazione, tipo il parkour, tipo l'arrampicata, tipo una nuova realtà che oltretutto abbiamo proprio nel nostro territorio, la sede centrale, il pink ball, dove però necessita di un coraggio per permettere il coinvolgimento, la promozionalità di questa attività.